Ciao a tutti amici dello scampolo e bentornati sul mio canale I giorni passano e le sorprese nelle caselline diventano sempre più succulenti Care ricamine, questo è il vostro giorno Nello scampolario, infatti oggi, 9 dicembre, troviamo La telaida in quantità industriale, si E pensate che oggi è un'offerta a 10 euro al metro Ora vi mostro le disponibilità e il prezzo iniziale di ogni tipologia di telaida Abbiamo l'originale DMCU in 4 colori diversi Ciliegia, rosa chiarissimo, rossa e questo bellissimo blu notte Ha un'altezza di 115 cm e i buchi da 55 Con un costo iniziale di 19,80 euro e solo per oggi la pagherete 10 euro Praticamente a metà prezzo Telaida e crew con buchi 55, altezza 1,80 m Il costo iniziale è di 14,50 euro e per oggi la troverete a 10 euro E infine abbiamo questo canovaccio da ricamo, sempre alto 1,50 Disponibile con buchi da 44, 55 e 65 Con un prezzo iniziale di 12,50 euro ma solo oggi anche lui ce l'avrete a 10 euro Tutti adatti per un punto croce perfetto E quindi se avete un progetto in mente di ricamo, che ne so, un quadro, un cuscino, degli asciugamani, delle lenzuola Questo è il momento giusto per approfittarne Anche per oggi inoltre trovate ancora scontate le matassine della DMC Moulinée a soli 90 centesimi Disponibili in tantissimi colori Vi ricordo che lo scampolo mette a disposizione il servizio GIFT Delivery Dove voi potete regalare alle persone a voi lontane Che purtroppo a causa di PCM non potrete raggiungere Un servizio di spedizione al costo di 5 euro Dove lo scampolo vi offre il pacchetto regalo e il bigliettino Lo scampolo spedisce in tutta Italia Vi ricordo che per fare i vostri acquisti basta che scrivete allo scampolo allo 029372794 su Whatsapp Vi invito ad iscrivervi alla loro pagina Facebook Lo scampolo vendita merceria creativa Dove ogni giorno troverete delle offerte pazzesche E potrete aprire lo scampolario dell'avvento e scoprire quindi la vostra promozione Se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube che mi farebbe molto piacere Lasciate un like a questo video, commentate qua sotto per dirmi se avete mai ricamato E noi ci vediamo domani con l'apertura della casellina numero 10 Spero tantissimo che vi stiamo tenendo compagnia E che stiate passando questo periodo di attesa al Natale con un po' più di spensieratezza Un bacione, ciao ciao!